Aspetta Eee... dove cazzo sei tu? Ma perché siamo in... non siamo più nella squadra? No ma no Non siamo nella squadra? Vabbè comunque sono qua davanti Dietro Guarda tu è gold Oh bella Ci sta un bot Ci smoccano guaglio Oddio Sta diventando... come si dica? Nebbiolino Aiuto ma ci sto andando No Anche pull Eeeh... Spero che... Cerco di venire a squadra con te Spadra sei? Eh non lo so aspetta che tu entri in una che adesso appena muoio io entro con te Ok adesso dentro Prendi la tua Allora... Sp... Allora squadre... Che cazzo di squadra sei? Stav Stav Vai ci sono Abbiamo perso il settore Eh vabbè Ma quando entro cioè non è che non mi starta la... la partita? Cioè cosa faccio? Indietro adesso No non ho preso il giocchio Vabbè Tutto da qua Però niente Ma andiamo Che mi hai tapito per buttarci là No io non ho perso il cazzo Perché non lo hittavo? Adesso metto lo sniper Io niggers Niggers Sniper Panno da te Lo sniper Ah minchia ma è un mitragliatore Cioè una mitragliatrice Cosa? Quella che c'hai? Sì sì Mi tra Quanti colpi Aspetta che mi sciotto con l'oliva Se non si affaggia Ma com'è che si fanno a spottare gli nemici? La cu Oh adesso No ma non sono in giro Come cazzo faccio Oh fuori dalla zona Porca puttana Uno l'ha fatto Mi devo andare a comprare Ora Sulla destra Sulla destra Oddio ma i colpi mi entrano dopo Pingo 170 Porco dio Infatti mi entrano In ritardo Un bot Oh Ma che cazzo è Che mi spara e che sono eccomi cerco di copirti da destra io una a sinistra avanzando da sinistra non vedo un cazzo in più pure la smoke eh ma hanno shottato da sinistra c'è due a sinistra questa è dura cazzo mi sa che è l'uso cazzo mi sa proprio di lui sto scendo a mare zio nemico colpito come cazzo è possibile un altro chittato una volta no zio non mi entrano i colpi te lo giuro te lo giuro non mi entrano i colpi ma te lo giuro pinghiamo troppo in sto match ma entrano però no no io no no cazzo però io proprio zero vedo il colpo proprio altro che warrock peggio ancora stiamo perdendo l'obiettivo bravo oh vorco diec abbiamo perso stessa labio ti giuro non riesco a sparare porca puttana oh che cazzo sotto la mappa mi stavo andando non mi ma c'è uno col cavallo sotto oddio ma ne abbiamo perso cosa te lo giuro mi sta salendo un nervoso che non mi entrano i colpi dai è impossibile non è morto ma se cambiamo tipo eh no ora mai vuoi uscire eh più che altro perché nel dolce ce ne mancano anche ancora un bel po' ce ne mancano non mi ha perso quello che ti ha perso no io pingo tanto però non è che non entrò in goal intorno a me entrano ma tardi e se a volte addirittura davvero non entrano abbiamo perso maledizione fratelli agli inglesi non è bastato conquistare mezzo mondo si sono presi anche queste terre ora però avremo un'opportunità potremo unirci ai nostri fratelli per assaltare il canale di Suez canale di Suez vabbè giochiamo va ora ste mappe mi piacciono canale di Suez canale di Suez canale di Suez 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 Cazzo di lingua Cazzo è araba Minchia è sta lingua Minchia te la senti Scusa Scusa Questo è tipo russo No era tipo arabo Non vedi dove siamo Siamo tipo Egitto Tipo Islam Adesso metto il cecchino Li spacco tutti Dio caro li spacco Li spacco Ti sto dietro ti copro io Quando ne spot 150 ne fai? Oh ma già mi spacco Porco diaz Ma sono già qua questi Sì ci ho messo tutto al minimo Io voglio provare a sbloccare Metto 120 Vediamo quanto arriva 80 74 60 E qualcosa 70 70 70 Mi sparano e non li vedo Non va bene Mi sparano e non li vedo No zio abbiamo già perso B No zio non posso non posso manco cecchinare non c'ho non c'ho uno spot Buoni Ma qua non c'ho un cecchino Non so Dobbiamo arrivare tipo dove ci sono le case Dove ci sono le case Allora sì A meno che se proprio devi usare cecchino devi usare una senza mirino Cioè una media distanza Eh ma sai che io mi trovo davvero bene con questo qua da lunga Che proprio mi piace mi garba un po' Ma è mappa grande Oh Fatevi Facciamoci Oh Che cazzo è bo Non trocavato Dicci un cuore sul cao Perché se l'è fatto Ma che Come cazzo l'ho preso Io ne sto pigliando tantissimi zio Ma c'è una cara anche Oh da sinistra No No mi hanno fatto zio No 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 8-3 stavo facendo Mi stavo facendo le free kill Fermo dove sei Non muro io ti prego No 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 muoio Non muoio No più che altro il team deve rimanere su A Non devono lasciarli Non devono lasciarli alla prendere Perché siamo messi benissimo E quelli proprio Cioè qua sopra questa duna qua Siamo messi Proprio in un spettacolo C'è uno col mortaio C'è uno col mortaio Oh un secondo arrivo Mi hanno shottato Non morire Nooo Vabbè tanto c'è Mamma mia Dove cazzo mi ha fatto spawnare In culo ai lupi Dai Non ci voglio credere Comincio già a non prenderli più io Che palle Non ci voglio credere Zio mo ci fottono Zio ci fottono Zio ci fottono Mamma mia dove cazzo siamo Uno Pusciano Pusciano zio Pusciano Dio caro Il posto più brutto di sempre Cioè nel senso Eravamo proprio Ci siamo Cioè ci hanno proprio in culati Secondo me il cecchino Spacca qua Secondo me il cecchino spacca qua Più che altro devi riuscire Oh oh Che fio di buttana Oh Let's Let's Metà delle forze nemiche Oh ABBE Sontate Sontate Non ho appena fatto un voto di headshot di figa No non ci voglio credere vabbè mi stavano mirando Io per ora rimango qui dove sono Io le sto facendo e non le sto facendo passare Stiamo perdendo l'obiettivo bravo No ma fatto Vieni vieni zio che no 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 ci stiamo stiamo vincendo Vieni tu No vedi te nella mia squadra Ah sei dentro? Sì sì Noi siamo folli in 5 il cazzo Capitano Vai raga Stiamo perdendo l'obiettivo Stardo la Restano 50 assalitori Ma non stavate vincendo? Oh io ho quasi tutto tempo FK Ah vabbè stiamo vincendo 44 43 Direi che è bene Tu devi difendere Ah siamo noi a difendere Ah è andato sì Vai raga spacchia Non facciamo ripassare A zeri c'ha Ah Buc Abbiamo perso il settore Ma quando mi sarei spettello Vieni 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 Oh Oh Parchodio Ah è un bordello col cannone col cannone 2 1 Il 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 No, 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 vabbè Ma quello non gli spara, dai Un po' di cover, su Sei inting con noi? No Dai, minchia, il carro Devo cambiare team e andare con cosa Ma basta E' con noi ma è in un'altra spada Un nemico colpito 4, quello c'ha la corazza Oh, quello è in uno spot bellissimo Dai, non muore Dai, col car armato Porco di Dio Dai, è morto più bello Siamo di facciare riuscire Conneccio colo Eh? Ah beh, lo sai Ora appena muoio Ora appena muoio L'hai in chi? Ti hanno venti a salire Siamo in un'altra spada No, andiamo giù Non parliamo alto Non parliamo alto Non parliamo alto Non ho volto alla vetoria Eh, dove sei? cambi schiacci 1 2 3 padre che squadra siete edward vinto dg la vittoria è nostra ma gli inglesi vogliono questo canale e torneranno preparatevi a combattere ancora ritrovati a combattere ancora è molto difficile non solo 22 spiazzi quasi lanciarli via ancora proviamo proviamo prova tutto del carro c'era by night man a chiama tra sedentia parco di azio zio ma sono già qua questi sono già dentro le case o cos'era abbiamo perso l'obiettivo o voglio ma che cazzo è o ma come fanno a essere gioco e minchia proprio cattivi a porco diaz questi proprio vogliono fotterci tu ma porca puttana o sti carri di merda due coglioni cosa bro i carri rompono i coglioni vedo un cazzo pur la smog hanno lanciato dai 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 per poco non lo accoltellavo che culo chi cazzo di culo che c'hanno cazzo di culo no cazzo finisce la smog di merda no 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 cazzo ma estrici i gattoni stai gattonando non lo coglioni non aa si non 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 abbiamo non come fa o porca puttana coglione il culo wow entra dai ma stanno tutti nella casa dove c'è la smoke abbiamo conquistato l'obiettivo alfa devo mettere il cecchino quello con la fanta senza miri dove dato l'ho coltellati due da dietro e uno l'ho fatto con i fucili poverini un altro coltellato no no non l'ha coltellato dai sculato però figa il coltello ogni tanto c'è non è c'è dal cazzo tipo pugna latina non ci credo bella che cazzo di laggata è è quella per il supporto è veramente forte mi piace eh non so comunque è fortissimo veramente no 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 ci vogliamo riconquistare l'affetto sei stato promosso livello vinto si questo è win stiamo ripigliando le basi addirittura grazie hai nightmare e' muniii Oh mio dio Oddio Che botta mi è arrivata No ma adoro Granata a gas Ma come la granata a gas Ma comunque la granata a gas Appena ti hit all'inizio Ti leva 20 Tantissimo cazzo Come primo hit Ti leva 20 Adesso voglio mettere il mio dio Che non fa pagare il sacardo Che peste Mi stanno sciogliando Ucciso dai detriti raga Da chi? Dai detriti È arrivato un missile tipo addosso la casa È caduta la casa ma ha ucciso A chi ha rubato la kill Non lo so Fa niente Troia Che cazzo è schifo Devo fare più punti Devo fare più punti No 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 Io ora devo giocare un secondo di pistolina Oddio Sì ogni tanto Sì ogni tanto Tori animal Sì esatto Tra i match si hai detto su Rimogli hai detto no Sì Sì ogni tanto dose Ah ma è successo Ma la tua assieme Fanno spaccare Che è successo raga Ci hanno conquistato la base Ora sì Ma porco dio Infatti adesso tipo se sei dentro A radarla sei sputtato tipo Oddio no Che cazzo Che cazzo ho messo Mamma mia che schifo di arma Via 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 subito Cambia subito arma Ho sbagliato a prendere arma Porca puttana Ma qua devo prenderci Non scherzo a non morire Vai un'altra l'ho fatta Per favore non morire Spero di no Ci sono Sinistra sinistra Ho uno l'ho hittato No Minchia Eh sì son morto C'è il carro raga Dai dai Fra come ti ho salvato il culo Mi ha salvato Lo volevo fare io Ah eh Non so L'avevi a fianco Che era andato io Che cazzo Ma ci sono già qua Oh Io difendo la pirata Però ora devo arrasciare con la pistolina Minchia che headshot Quello è vero che si è addormentato sul colo Ma c'è un tank Perché non li spottano i tank Dio caro Spottate sti cazzo di tank Oh raga dobbiamo killarti i 60 E adesso Adesso le faccio tutte io Se 60 kg Tutte io con la pistola Uno Solo è morto Poi dov'è il secondo Dai chi sarà il secondo Mi vuole essere il secondo Dai un altro kill l'ho fatto Forse Mi manca l'ultima Tu Dai 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 Ho Dove cazzo sono Ancora l'ultima kill Cavallo ucciso Ho ucciso il cavallo Sovra cavallo Non l'ho fatto apposta Perché non l'ho hitto Sbloccata Vai raga Sì questo è win E levati dal cazzo No figa Che due Coglioni Due a destra e sinistra Davanti a me Minchia 42 e 26 Sento la paura degli inglesi Affilate bene le vostre baionette Perché torneranno Abbiamo solo questa parte Abbattiamoli ora Come facciamo vincere Vabbè ma abbiamo vinto in teoria Non lo so Cioè anche se perdiamo questo abbiamo vinto Dice Cioè due difese su tre Oh Che cazzo era No stavo prendendo il carro Lascialo usare a chi è bravo Io voglio una mappa con l'aereo Dai col bastardo dove andai Oh Ale Oh Oh Passa sul mio Merdi merda Ma che cazzo Dice Ho urlato Oh mamma mia davvero Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa E te guarda orfosa Non posso vedere anche qui Arrivare 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 Abbiamo perso l'obiettivo Alfa Abbiamo perso l'obiettivo Alfa Dica di già Buon passo Ho l'ho hittato Cazzo di merda T'ho visto Bucchi fuori Guardalo lì La testa viva Credo Minchia 90 Gli ho levato 90 Entra in ritardo il colpo Porca Cazzo Ah Finisce Questa Cambiamo Sì Minchia 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 Pra Questa Minchia 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 Sang No dai Oh stanno andando a prendere la base oh mio dio con il cecchino da lontano non però c'è un mirato ho sparato in testa che era tipo due metri da me e culo no zio non siamo messi malissimo proprio male male devo mettermi a destra devo coprire destra perché poi usciano dal lato della ferrovia come cazzo scemo 1 morto stiamo conquistando la base ai tigli altri la biglietta che i quickscope no e ci stanno per prendere b però vabbè tanto prendiamola è però la b ci serve no quello era dai dietro dietro la base dai però non muore che nervoso o ma quella merda di treno esplode oh la b zio la b la b zio abbiamo perso fauna muoio cioè non è impossibile oh pingavo troppo i britannici sono riusciti a riprendere il canale dobbiamo tornare da dove siamo venuti attraversando il deserto si oseranno seguirci scopriranno come cazzo fai a pingare 15 nightmare se noi pinghiamo 150 oh questa è bella questa è bella si è bellissima l'esercito ottomano aveva eretto solide difese seppur temporanee non è finita no sono tre mappe zio xp 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 ho scelto questo c'è c'è quando sono entrato nel gruppo c'era scritto uno c'è di voi due c'è la io io e appunto quando ero entrato mi ero uscito sentiamo la voce che cazzo con l'ardaltan nigurdum ha detto negro io ho niggas io ho niggas eh eh tu roga che da crescere il deserto no questa è tutta sniper proprio all'inizio fammi da stare dove siamo perchè ora riuscano come i pinguini si si è vero ce l'abbiamo già qua adesso i tg sono qui dietro l'angolo ma da che lato stanno c'è ok ah no non ho sparato ho sparato prima lui cazzo questo proprio è uscito pam ho fatto eccetto con la pistola da qua no vabbè pistola vabbè spettacolo no ho fatto una cosa assurda ragazzi non ci voglio prendere ma quante cazzo di macchine ci sono? ma cazzo ho fatto cazzo ho fatto ma arriva la macchinina macchinuzze vado oddio oddio raga fuggite si me ne vado zio no questa è una cosa allucinante oddio sta arrivando con il camion qua cazzo cazzo ho fatto il video che abbiamo degli ati qui nella a va andiamo ce ne ho non si può fare niente cioè sono tutti i tank addirittura ho pure l'aereo ce ne i cavalli vaffanculo vai io me ne vado in a ah e la regalo quella base che tanto me la posso non tenere oh 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 mi sparano dove cazzo mi sparano porco diaz che erano di giacchini si ma il punto è che non li vedi ah l'ho preso l'ho preso noi non abbiamo le macchine proprio c'è come è il totodio oh non vedo un cazzo non vedo cos'è sta bufera che cazzo c'è oh non vedo un cazzo stiamo perdendo l'obiettivo alfa merda di aereo lo sto partendo che volta un po' vaffanculo col colpo del carro armato l'ho uccito quello ahahahah abbiamo consistato l'obiettivo alfa ah ma io non ti ho disfattato a me se non ti ho portato oh se vedete l'aereo o madonna ma pure a ci stanno fottendo già ah mio io scalo io torno se vedete l'aereo segnatelo settore perso difesa scadente io mi devo trovare un posticcino figo non va vabbè non muore eh ora c'abbiamo noi l'aereo non vedo nessuno non vedo la bufera di merda la bufera di merda abbiamo perso l'obiettivo abbiamo perso l'obiettivo abbiamo perso l'obiettivo noi abbiamo due aereo l'obiettivo se tu vorrà portare un' США il ma non si capisce il cazzo con la pufa era poi mi fattano pure pomogeni aiii mi hanno sputtato gazzo che due coglioni non si vede una minchia oh se ne sta andando ma scaccia ti credo uno cinque io ecco c'è la carta c'è la carta l'ora c'hanno quelli che stanno usare il cecco c'è il car c'è la carta c'è la carta non so Figa Vai provo ad andarcela dietro anche se non ero sicuro Eh cavallo di merda Ah ma te l'ammazzo Dai sto cecchino Porca ma come cazzo è che Te lo giuro C'è una partita personalizzata e ci sblocchiamo le cose Nel senso Ah no La parte fatta è per partire la partita Se come il 4 devi essere un top Se non una start Per fare una cosa del genere devi comprarti un server Ah vabbè si compra con la partita Compra 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 Vediamo se ti asco da È un po' inutile però Eh È un po' inutile però Io sto un po' la ghichiando Vedo che tipo quando schiaccio il tasto destro Per aprire il mirino Me lo apri in ritardo Abbiamo conquistato l'obiettivo Va dietro raga ma con vita Abbiamo ripreso la B Abbiamo conquistato l'obiettivo bravo Abbiamo perso l'obiettivo A Quanti cecchini Ma da dove Non c'è pieno dalla macchia Sto a madre zocca Ma da dove Sto a madre zocca Vediamo se ora non riprendo lo score Io sto facendo le free kill Eh lo so questa è una mappa da cecchino Eh già È stato Boom Madonna Il problema è che non volevo usare il cecchino Perché volevo sbloccarmi E altre classi Guarda quanti Cazzo Noi si proprio da questa base Non arrivano più proprio Non superano più questa base Eh io oramai sto cecchino Per la mia vita Ho imparato la mira Sì imparaci Le porte spawnere da me Che io ho bisogno delle amme Che ha il tuo portero Fino a poco fa Oddio Boom 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 Restano 50 assalitori È uno lì Cazzo Guarda come ho recuperato lo score Madonna C'è Paragon Oh bella M'hanno ucciso No ho troppi cecchini lì Va ti sto aiutando io Vai tranquillo Eh ho pure zero colpi Sei support no No non ho andato support Vai fatemi Fatemi spawnare Fatemi spawnare da voi Vai ci sono Arrivato No sono sniper Mo faccio Piazza pulita Guarda qua eh Ora io ci raffa Uno La testa proprio Gli è saltata via C'è uno qui che sto salendo Cazzo Eh vabbè Stavo salendo Eh non so se l'ha fatto il nostro amico Dai però Oh non mi entrano i colpi Te lo giuro Minchia che odio 143 di ping Dio Ah è finita Buon studiato Che questa grande vittoria ottomana sia la prima di molte Vittoria ottomana Ottomana per esempio Che nasca la speranza nei cuori dei turchi Avanti fratelli Sempre e avanti Verso la conquista La gloria E la felicità eterna E siamo turchi La felicità eterna Siamo turchi Siamo che babbari Dove aver preso il controllo delle riserve metrolifere mondiali Quasi certamente il governo ottomano avrebbe ritirato il proprio supporto agli imperi centrali Cucci gang Cucci gang Cucci gang Cucci gang Dai l'expe voglio raga Voglio l'expe Voglio fare due e tre liberi Tanto non era attiva Era attiva Era un pochino No Ho visto io Ma niente che c***o Prendi meno Sì mica prendi molto Prendi il doppio Non l'hai capito Perché non vedo i punti E' bugato tipo Vedo i punti Poi c'è la squadra Vedo la squadra Cosa c***o è successo Fini del tour Ma che schifo C'è Quello è 43 Non ho preso un c***o Un livello Impressionato Ma io stacco No Come stacchi Eh sì bro Devo andare da dentista Ma quanto c***o dormi Se ti sei svegliato poco fa Ma guarda che ho dormito mezz'ora Cioè non è che ho dormito chissà quanto Sì Io me la gioco Vaffanculo Non so se stavo Cioè è bello che poco ho fatto ho detto Quindi stasera nerdy Sì Ah minchia Fin giorno è 11.15 C***o Sì è 11.5 Ma mica sono come voi che non fa un c***o Oh È arrivato il lavoratore Che Berlusconi mi consenta Montegrappa Spesso mi sa un po' sul c***o questa Questa è tedesca E noi siamo i tedeschi Che le Ping englone Signora indemona Anche Signora Signora Che seguo Signora Signora Se lo trovate протemene Tipo In 10 euro Lo Com no bella merda perché c'è una piscina da 10 euro che non ancora utilizzato visto che tra i miei in prima acqua abbata il fronte 2 molto cosa è 80 e piazzano ma vai vedere io adesso guardo io adesso ho comprato battle il prossimo acquisto over watch non ti piace o e lo sai e lo sai che c'è e sai che c'è e continua a sbattere dai vai ogni volta me lo dici vai porca puttana ecco 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 Il kit flammiere è disponibile vicino alla tua posizione Viva attivo, io scrocco Viva attivo, io scrocco Un giocatore della squadra ha attivato il plus, dovrei ripassare 10 minuti Ma scusa, perché si dice che è forte? Perché è forte, è forte, è forte, è forte, è forte 27 euro Vedi cosa ti dà, scendi giù e legge Un pacchetto è base raro, un pacchetto armi base raro Pissola fondatoria esclusiva 4 pacchetti lama 24 pacchetti lama 5 pacchetti lama 10 piccoli sendazio 10 incrementi piedi 10 incrementi piedi 15 altrimenti la fonte giù 6 60 25 oppure 5 6 6 7 6 8 9 8 eh ci vuoi spendere tutto lo stipendio nei giochi hai comprato quanti giochi in quanto tempo oh ecco qui colo io ce l'ho già si anche, mi batte i f2-4 si, te uguali colo anche, me lo posso comprare fastfield 2, raga ce l'avevo ci fa 15 c'è il 16 che c'è il 16 che c'è il 16 però tu c'è il 16 io ho vinto, fai ricco io ho vinto io ho vinto io ho vinto i f2-4 sai come? ce l'abbiamo ce l'abbiamo non è quello la che abbiamo scaricato giocavamo insieme no? quale qual'era? ah non è quello quello ma è shift c'è anche i f2-speed i f2-speed i f2-speed i f2-power dov'è dov'è? ce l'avevo ce l'avevo? ah i f2-wanted ne abbiamo ah i f2-wanted esatto è il payback pure hanno aggiunto macchine nuove eh sì non c'è un grande non c'è il no Sto caricato, è craccato, è offline, adesso sto a cagare. M***a Dragon Ball Z 2 No m***a sto facendo cosa nuova, no mi compro cosa nuova Non si sento, mi compro cosa nuova Che buona vita, sì E aspettare dei crew Lo ricordi? Sì Torna nella zona di combattimento Torna subito, c'è bisogno di te! Tieni –rea Sì Sei Dire a me va chattare la mia mille Grazie a tutti 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 Un aereo No mi piacerebbe Grazie a tutti 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 Abbiamo Grazie a tutti Boom Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e poi quella anestesia non hai sentito dolore? no, dolore no però si sentiva che si muoveva poi voglio me l'ha tolto e si può fare ma la anestesia me l'hanno fatta e quando ho fatto non ho fatto che non ho fatto no, io la puntura non è non è dolorosa più che altro è stranissimo dopo che hai tutta la bocca a scrivere tutto così a scripare tutto così no, io ho devitalizzato un dente no, sai io l'ho fatto la spessa settimana cosa t'hanno fatto a te? in che senso e dimmi come te l'hanno fatto mi hanno fatto una anestesia poi? e poi tipo un tagliere cioè una cosa linda è un tagliere ma non ho levato di merda dai, il cazzo io sono andato tipo in uno dei dentisti migliori di mia e ho pagato 300 euro per un dente e... no, io ne sto pagando 1800 si ma io solo per devitalizzare e cosa è successo? e... praticamente a me no a me cosa hanno fatto? prima mi hanno fatto i test no, con il ghiaccio mi mettevano sopra per vedere... ma vaffanculo credo e poi dopo cosa hanno fatto? piano vabbè mi hanno fatto la... tutto il palato in estetizzato lì oh e poi dopo... no ma loro tipo pian piano non tipo... non delle viti ma tipo dei cosi bastoncini apposta sempre più grandi allargavano il foro e poi dovevano... pulito hanno tolto il nervo e... l'hanno fatto eh ma vaffanculo va tutto 300 ti ha fatto male? no 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 mi fa male quando... più che altro mi faceva male quando inserivano quelle vite lì per allargare il dente dietro tutto per bucare e l'enestesia zio a me fa malissimo te lo giuro quando mi mettono quell'ago lì dentro sono tutto... tre... ma che cazzo dici? io tremo tutto poi dopo ti senti il liquido dentro e poi dopo in due secondi non senti più niente beh è strano perché altro è il liquido dentro quello è strano però male no no male no però più che altro quando ti mettono all'inizio subito tipo l'ago capito? fai un pizzico ti fa più male quando ti fai il tenevo del sangue minchia io non lo faccio cioè lo devo fare tra poco addirittura 1 febbraio lo devo fare ma raga mettono un'altra eh voglio mamma c'ho paura cioè non è che c'ho paura io preferisco deve fare subito cioè non voglio no a me da fastidio se ci mettono un'ora veloce ma va anche una malestra anche a no 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 ma tu sei nella partita con me ah non tantissimi tutti chiusi sono tutti chi io non posso salire perché sotto attacco tipo stavo per salire io sto salendo sulla mongolfiera vai per la prima volta 4 no posso più sotto attacco staccati a staccati a staccati che ci sono oddio o sopro ci sono lasciato subito voglio l'aereo io palle ma raga armi da assalto assalto ancora c'è più che altro perché sono tutti cioè cos'è che sono fucili a pompa no non solo sono solite la mongolfiera e i fucili sono sono fucili a pompa aereo no ma non sono tutti fucili a pompa e da livello 10 ricominciano le mitraglie tipo non voglio devi vedere devi sbloccarti vai l'aereo presto devi sbloccarti le missioni devi fare le missioni eh si però facile tanto a farlo fatta la è che è finita resa win questa volta che ho preso l'aereo che le nostre grida di vittoria si odano in tutta europa abbiamo fatto irruzione e catturato la fortezza ora ci uniremo alle unità sulla costa dell'adriatico per l'atto finale la vittoria italiana sulle montagne aveva sfondato la linea difensiva austro-ungarica dividendo nelle forze il combattimento si è quindi spostato verso la costa dell'adriatico dove le forze imperiali erano pronti a opporre la loro ultima resistenza massimo ci dirigiamo verso nuove posizioni sulla costa che cazzo è accanto agli uomini rompano potenti mezzi corazzati siamo in una nuova era nuova era oh mi chiamo dimmi che c'è non c'è l'aereo prendo il carro io ancora devo uscire dalla squadra non devo prendere quello giusto eh? io ancora devo uscire dalla squadra si è stato un caricamento ok salta le forze imperiali squadre ora scommetto che non mi dà quello vai ho preso quello che voglio io vai dove sei? eh dentro il carro ma spacco i culi con sto carro adesso entro con te non gira un cazzo vai ci sono ma non si può mettere tipo in 3d con la scelta in 3d come? con la? cc almeno io posso tu non posso ho fatto uno che posso switchare tutti i lati non qui via sta casa non la vogliamo mi posso sparare voglio ciao me ne vado sono morto per il gas sono morto per il gas cc quando non mi ricordi i tasti mi fa incazzare in una maniera assurda abbiamo conquistato l'obiettivo alfa poi ho vado all'attacco con l'assalto mi sarò te coglioni mi rivivono sono morto le parole stch si st 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 Sì Nooo, ma non c'è tanto Ogni volta ne trovi tutti qua davanti Dal carro Carro Uno Va Allora, per riparare il terreno Questa base l'ho flaggata praticamente, guarda sono primo con i punti LOL E' morto Mannaggia Ancora col tank sei? Sì Puoi provare però Sì No, pssu Mannaggia come scende il dolgo Non l'ho hitto Mannaggia come si è schiantato quella Non mi posso muovere, mi shotto Ok, così l'ho hitto Ok, così l'ho hitto Sai che sto facendo il carro AAAAAAAA Beh, non mi dura Tre No, questa è una c***a Ecco qua, mina anticarro Vaffanculo Non lo riprenda, altro che No, non lo riprende No, non lo riprende No, ma si è schiantato Nel momento No, non lo riprende Non lo riprende No, non lo riprende E' una case brutale ho fatto Ho fatto un headshot brutale però Lontanissimo Pazzo di aereo Pazzo di aereo Pazzo di aereo No vabbè Che cazzo sto facendo Come che si lanciano i razzi? E' tipo una cosa che si chiama lanciarai E' un po' Non ho domani Non è che stanzione sono sui tank Ora che andrò col pesco Resta metà delle nostre forze Pazzo di aereo A presto A presto Pazzo di aereo dove stava quello là? abbiamo conquistato il settore elimina tutti i nemici presenti nel settore ho filzato uno chissà come si è spaventato da dietro l'ho preso no la granata è tutta bella ah l'ho sfiorato dio ca... abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie abbiamo conquistato l'obiettivo Alpha abbiamo preso l'obiettivo l'obiettivo ha perso dove cazzo è andata? è lassù una qua stiamo perdendo l'obiettivo Alpha restano 50 dei nostri soldati ah ripara X sui 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 Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah... Grazie a tutti Abbiamo conquistato il settore Eh vabbè Abbiamo il controllo del settore Grazie a tutti Ah... Grazie a tutti Abbiamo... Abbiamo conquistato l'obiettivo Abbiamo conquistato l'obiettivo Grazie a tutti 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 Ci stiamo prendendo Ma... Ma 18-8 Come? Non sa quanti cazzo non ha fatti poco a poco con l'aereo Grazie a tutti Tutto un appartamento assurdo Grazie a tutti Grazie a tutti Foook Grazie a tutti Grazie a tutti E' finito o c'è? Finito Fratelli Gioite per la libertà e ammirate le vostre terre ammirate Il Regno d'Italia finito che il nostro sacro egoismo sia di esempio per il mondo intero il triunfo ottenuto a però passiamo all'altro gioco poi vado a vedere un film sì io sono l'intero austro-americo senza più potenze straniere sul proprio territorio l'italia vide finalmente concluso il lungo processo di unificazione vittori 19.000 tu? pure io 19.700 eh 19 1332 fatto il livello 44 sicuro e poi poi livello 23 ok livello 44 e mezzo 23 eh si livella un casino qua mh se vinci si sa farvi no no vabbè anche se perdi più eh meno bravo fatta la pacca apriamo non lo avevo aggiungi oh ragazzi vediamo domani pomeriggio eh bella buona sb tanto tu arriverai domani pomeriggio no bro si è sicuro al solito al solito 4-5 va bene domani ragazzi ciao ciao user disconnected from your channel no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.